Dunque, ecco a voi Marta Menegatti, intervistata dall'espertissima Victoria Orsitoth. Allora Marta, più giovane di Vicky, di ben due giorni, sei comunque la tua terza, il suo terzo mondiale. Come lo affronti e con che spirito rispetto magari alle altre due precedenti? La mia compagna è preparatissima, a differenza mia. Sì, è il mio terzo mondiale e l'ho pronto con serenità, però allo stesso tempo con aggressività e voglia di fare bene. È una nuova esperienza, quindi non è paragonabile ai due mondiali precedenti con Victoria, quindi è una compagna diversa. Niente, tranquilla perché comunque ci sentiamo preparate e quindi dovremo fare del nostro meglio. Nell'eventualità di vincere una medaglia, una pazzia che faresti? Mi trovi alquanto impreparata? Stavo pensando a buttarmi dalla nave? No! Non lo so, dai, ci bisogna... Aspetta, ci lavoriamo, però magari non dalla nave che sono almeno 50 metri. No, anche forse un po' di più. Work in progress, ve lo sveleremo più avanti. Salutaci Marta! Ciao a tutti, seguiteci e di fateci! Ciao! Ciao!